Chiude i battenti dopo cinque giorni di dibattiti, conferenze, incontri con artisti e giornate con le scolaresche il Festival dei Cinque Colori di Napoli. Un successo atteso, quello della Kermess organizzata dall'Associazione Pancrazio, soddisfatta Maria Teresa Carpino, organizzatrice della manifestazione. Sono stati cinque giorni bellissimi, noi siamo rimasti molto soddisfatti, le scuole hanno partecipato con grande entusiasmo, sono arrivati molte scolaresche sia di mattina che di pomeriggio e quindi abbiamo spiegato il nostro percorso di educazione alimentare e abbiamo spiegato il perché delle cinque, quindi il Festival dei Cinque Colori anche perché si chiama, perché questo cinque. Abbiamo avuto anche moltissimi convegni, c'è stata molta partecipazione da parte delle famiglie, abbiamo dato i nostri premi e anche i premi sono stati momenti molto emozionanti e toccanti e quindi siamo molto felici e soddisfatti di questo Festival dei Cinque Colori a Napoli e il Maschio Angioino. Tanti testimonial che hanno prestato il loro volto alla Kermess, tra questi Nino Frassica, Peppe Iodice e i ragazzi di Marefuori. Non sono venuto qua per insegnare niente, per imparare e quindi tutto quello che loro stanno facendo serve a moltissimo e io sono il primo, se mi seguo. La prevenzione è sempre, l'alimentazione è giusta, anche se non lo facciamo sempre, però io vengo da un periodo in cui la sto facendo e la posso consigliare perché ci si sente meglio. Impegnarsi sempre di più, di non mollare mai e di avere sempre la forza di andare avanti. Ognuno deve avere il diritto sacrosanto di potersi guardare nello specchio e dire io sono fiero di me e posso fare qualsiasi cosa io voglia fare. Numerose anche le tavole rotonde che hanno affrontato non soltanto il tema della necessità di diffondere sempre più la dieta mediterranea, soprattutto nelle scuole, ma anche la prevenzione dei tumori e del diabete. La professoressa Anna Maria Colau. I bambini non fanno altro che sentire quel che viene portato dalle mamme all'interno della famiglia, molte donne lavorano, fare la spesa tutti i giorni, approvvigionarsi di tutti i cibi freschi può non essere semplicissimo, quindi la scelta va fatta dai genitori, non va chiesto ai bambini cosa vogliono mangiare perché è naturale che il bambino cerca sempre la stessa cosa, cerca di mangiare quello a cui è abituato. Siamo noi che dobbiamo offrire la varietà dei cibi per consentirgli di crescere sani e di mantenersi sani.